Prende il via questa sera la seconda edizione di Sinergie presso l'agriturismo Porta Sirene di Pestum. Tutta l'organizzazione Solco Maggiore ha la presenza di 100 invitati, tra cui aziende agricole e consumatori, premierà quei volti che nel corso del 2018 hanno prestato la loro voce e la loro professionalità a sostegno agli obiettivi produttivi responsabili che la OP Solco Maggiore si prefigge di realizzare ogni giorno.